Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi di vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Soffia all'entro. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni a rignorare. Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Spirito Santo Dal Libro di Cielo, volume 23, 18 novembre 1927 Come il Dio, quando manifesta una nuova verità alla creatura, è una nuova festa per Dio e per essa. Come l'anima si decide di fare il suo atto nel volere divino, così chiama il fiat divino a riflettere con la sua luce nel suo atto, il quale tiene virtù di svuotarlo, di tutto ciò che non è luce. Mi sentivo afflitta per le solite privazioni del mio dolce Gesù, ma tutta abbandonata nel suo amabile volere. Quindi pensavo tra me. In questi giorni il mio sommo bene Gesù non mi ha detto nulla, tutto è stato silenzio profondo. Appena qualche moto mi faceva sentire di Lui nel mio interno, ma senza una sua parola. Onde, mentre ciò pensavo, si è mosso nel mio interno, dicendomi Figlia mia, quando Dio non manifesta altre verità, la volontà divina sta come sospesa, nulla aggiunge altri beni verso le creature, quindi per Dio e per la creatura non vi è la festa che la verità porta con sé. Ed io nel sentire ciò ho detto Per te è sempre festa, perché è con te tutte le verità. Piuttosto per la povera creatura la festa è interrotta, perché non possiede la sorgente di tutte le verità. Quindi quando il suo creatore non le comunica altre verità, le nuove feste restano interrotte per lei. Al più si gode quelle feste date già comunicate, ma le sorprese delle nuove feste non sono il suo potere, ciò che non è per te. E Gesù ha soggiunto Figlia mia, certo, per noi è sempre festa. Né nessuno può ombrare minimamente il pelago delle nostre nuove gioie e felicità senza termine che il nostro essere divino contiene in se stesso. Ma vi è una festa che viene formata nell'atto quando il nostro essere divino, rigurgitando d'amore verso la creatura, manifesta le sue verità. Vedere doppiamente felice la creatura, tante volte di più, per quante verità di più le manifestiamo, è per noi una nuova festa. Mettere fuori le nostre verità che escono dalla sorgente delle nostre gioie, imbandire la mensa della nostra felicità alla creatura che contiene la verità, vederla festeggiare insieme con noi, seduta alla nostra stessa mensa, per cibarsi del nostro stesso cibo, è per noi una festa. Le feste, le gioie, vengono formate nelle comunicazioni. Il bene isolato non porta festa. La gioia da sola non sorride, la felicità da sola a sola non banchetta, non si mette in brio. E poi con chi deve festeggiare, sorridere, banchettare, se non trova a chi fare questa festa, sorridere insieme, inebriarsi a vicenda. Perciò l'unione forma la festa. Il rendere contenta un'altra creatura forma il contento proprio. Ecco perciò, se abbiamo le nostre nuove feste che non ci mancano mai, ci manca la nuova festa che non diamo alla creatura. Se tu sapessi, la nostra gioia e felicità nel vedere la tua piccolezza sedersi alla mensa nostra, cibarsi delle verità del nostro supremo volere, sorridere in faccia alla sua luce, prendere le nostre gioie per farti il deposito in te stessa delle nostre ricchezze, abbellirti della nostra bellezza, e come inebriata di tanta felicità sentirti ripetere «Voglio il regno del tuo Fiat!». Vorresti mettere sotto sopra il cielo e terra per chiedermi il mio Fiat, per ottenere l'intento e per far che? Per rendere felice della tua stessa umanità, per rendere felice della tua stessa felicità tutta l'umana famiglia. «Pare che la tua festa non è piena se non rende felice gli altri della tua stessa felicità, che contiene in virtù della mia volontà. Se tu potessi far conoscere a tutti tutto ciò che conosci di essa e far gustare a tutti la felicità che possiede, non sarebbe per te una festa di più e non ti sentiresti doppiamente felice della tua felicità altrui da te comunicata?» Ed io «Certo, amore mio!». «E se potessi travolgere tutti nel tuo santo volere, sarei molto più felice e contenta». E Gesù «Ebbene, tale sono io. Alla nostra felicità che mai esaurisce e che ci tiene sempre in festa, si aggiungerebbe alla nostra festa la felicità della creatura. Perciò quando ti vedo sospirare le mie verità per conoscerle, io mi sento manifestato, mi sento tirato a manifestarle e dico «Voglio godere la mia nuova festa con la piccola figlia mia, voglio sorridere insieme con lei e dell'embriarla della mia stessa felicità. Sinché in questi giorni di silenzio è mancata a te, la nuova festa nostra è a noi la tua». Onde ha fatto silenzio e poi ha soggiunto. «Figlia mia, come tu decidi di riversarti nel mio Fiat divino e formare in essi i tuoi pensieri, parole ed opere? Così fai la chiamata alla mia volontà ed essa sentendosi chiamata risponde alla chiamata con riflettere la sua luce nell'atto tuo e con la sua luce tiene virtù di svuotare quell'atto di tutto ciò che ci può essere di umano e lo riempie di tutto ciò che c'è di divino. Quindi il mio volere divino si sente chiamato dai tuoi pensieri, dalle tue parole, dalle tue mani, dai tuoi piedi e dal tuo cuore ed esso riflette la sua luce in ciascuno di essi vi svuota tutto e vi forma la sua vita di luce. E siccome la luce tiene tutti i colori così il mio volere divino vi mette un suo colore divino ai pensieri un altro alle parole, un altro alle mani e così di tutto il resto degli atti tuoi e come tu li moltiplichi così moltiplichi i suoi colori divini e si investiti della sua luce. Oh, com'è bello vederti investita di tante varietà di colori e sfumature divine per quanti pensieri, atti e passi tu fai. Ti danno tale bellezza tutti questi colori e luce divina che ha un incanto vederti. Tutto il cielo vorrebbe godere di tali bellezze che il mio Fiat ha investito all'anima tua. Perciò il tuo richiamo alla mia volontà divina sia continuo. Bene, anche oggi il Signore con questo brano non molto lungo ma molto intenso ci allieta di bellissime cose che ci rivela, ci dice e su cui ci fa rilettere e poi evidentemente spronandoci. Credo che questo sia uno dei brani importanti per ricevere nel nostro cuore ed eventualmente rettificare una corretta idea di Dio. Qualche ciclo di catechesi insomma ho avuto modo di approfondire un po' questa tematica che adesso qui accendo brevemente circa l'idea di Dio che noi ci portiamo nel cuore perché come dice San Giovanni Dio nessuno l'ha mai visto ma colui che era nel seno del Padre che si è fatto uomo ce l'ha rivelato quindi noi non possiamo farci un'immagine di Dio farlocca, falsa o addirittura in certi casi proprio sbagliata ma dobbiamo stare a quello che ci manifesta la liberazione assoluto pubblica quello che ci ha detto Gesù e che qui in quello che abbiamo oggi ascoltato riecheggia Dio è semplicemente la fonte dell'amore infinito la fonte della felicità infinita la fonte della gioia infinita Dio è eterna beatitudine eterna felicità e questo suo essere per quanto sta in lui questa sua pienezza questa sua sovrabbondanza non ci sono mai parole ogni volta che faccio questi discorsi mi sento tanto piccolo ancora più piccolo di quello che sono perché non c'è un linguaggio adeguato a parlare di queste cose si sta sempre molto molto al di qua non si riesce ad esprimere in termini umani anche perché parte da il difetto di conoscenza per quanto la nostra immaginazione si immagina in qualche modo questa pienezza di felicità e di vita di Dio non riesce però ad esprimerla né riesce ad immaginarla in maniera perfetta e né tantomeno esprimerla in maniera perfetta però ci capiamo insomma quindi Gesù parla del pelago delle nostre giove gioie e felicità senza termine che il nostro essere divino contiene la stessa attenzione e che queste cose a Dio non gliele leva nessuno non solo che non gliele leva nessuno ma non gliele sfiora nessuno cioè i peccati degli uomini tutto quello che accade insomma tutte le schifezze le porcherie continue che la sua divina intelligenza non può non vedere ecco questo penso che si possa dire perché Dio tutto vede tutto sa ecco anche questo è un mistero per noi no? quindi nonostante tutto questo quella eterna beatitudine e felicità intrinseca che le tre persone divine godono non è minimamente alterata da niente e da nessuno sappiamo dalla teologia dalla chiesa dalla tradizione della chiesa che i nostri peccati come dire tra virgolette colpiscono tra virgolette non la gloria essenziale di Dio che è quella in forza della quale lui è sempre beato ma quella accidentale qui in parte Gesù però spiega no? in termini un pochino più esistenziali cioè quella che lui riceve dalle creature e in effetti di questo si parla oggi cioè lui sa dice tra qualche giorno che non mi parli più io la mia festa è finita nel senso che sto campando del ricordo di quello che tu mi hai donato invece beati voi che la felicità vostra non finisce mai e quindi punto insomma c'è questa grande differenza e Gesù in parte conferma quello che dice Luisa quindi sì vero la nostra felicità è invulnerabile ma in parte smentisce perché ed ecco la bella rivelazione che ci consente anche di settare e prospettare un'adeguata immagine di Dio guarda che la tua felicità quindi quella o meglio la felicità che io ti faccio vivere che io ti dono non pensare che per noi sia indifferente non averla non ci toglie la felicità intrinseca che abbiamo ma non averla è comunque una gioia estrinseca si dice così accidentale è che anche noi non abbiamo c'è una festa formata nell'atto in cui il nostro essere divino qui purtroppo st'italiano di queste traduzioni è veramente un guaio io cerco di fare la massima attenzione nel leggere ma delle volte è veramente difficile che io lo perdono anche a chi ascolta la meditazione se ogni tanto mi devo correggere che vogliamo fare comunque questa festa che viene formata nell'atto in cui l'essere divino rigurgita d'amore verso la creatura e manifesta le sue verità attenzione adesso lo vedremo per noi è una nuova festa vedere la creatura felice attenzione quindi Dio gioisce fa festa quando può farci felici questo dobbiamo non mettercelo in testa ma di più perché siccome purtroppo in questa vita sono necessarie anche le croci e le prove e guardate che Dio se tra virgolette potesse non nel senso che non può ma se sapesse che queste cose non sono indispensabili al nostro bene noi di croce non avremmo neanche una di prova non avremmo neanche una di fastidio non avremmo neanche una di tribolazione non ne avremmo neanche una non dimentichiamolo mai la prova la tribolazione la tentazione la persecuzione la sofferenza la malattia sono tutte situazioni e condizioni da Dio in un certo senso volute quantomeno permesse perché lo stato di peccato del mondo quindi di interdizione degli esseri umani che ancora vivono la vita terrena le rende indispensabili della nostra salvezza c'è un bellissimo passo del profeta Geremia che l'ho citato tantissime volte dove dice che Dio contro il suo desiderio e contro il suo volere gli umilia e affligge i figli degli uomini è un passo da ricordare non possiamo dimenticarlo perché molti sono tentati quando le cose vanno alla nostra maniera umana vanno storte vanno male eccetera eccetera di prendersela come il Padre Eterno ma non è così perché se Dio vedesse che tutto si potesse fare senza sofferenza e questo non causasse problema sarebbe il primo a farlo il passo del profeta del profeta Geremia si trova nel libro delle Lamentazioni e lo cito testualmente e lascio anche riferimenti perché sarebbe bene per chi ascolta questa meditazione poi di andarla a prendere sono solo tre versetti e farlo oggetto di meditazione e comunque ricordarlo Lamentazioni capitolo 3 versetti 31-33 poiché il Signore idee idee mi si perdoni si capisca il termine in cui lo dico si possono avere delle idee sataniche quasi di Dio che manda solo le croci che vuole farci soffrire questa cosa qui è instillata è come dire fomentata è provocata dal diavolo non è che le croci non ci sono e non è che le croci non sono permesse da Dio a volte addirittura anche volute ma non bisogna mai dimenticare questa situazione cioè il modo secondo il nostro modo di parlare con cui la Divina Volontà le vuole è un modo dipendente e condizionato non le vuole lui in maniera assoluta le vuole perché si sono rese indispensabili nell'attuale condizione decaduta altrimenti non l'avremmo mai conosciuta ma sappiamo benissimo che nell'Eden non c'erano le croci non c'era la sofferenza non c'era la prova non c'era la tribolazione non c'erano tutte queste cose semplicemente non c'erano in paradiso non ci stanno perché Dio non è questo Dio è più che tenerezza Dio è somma beatitudine Dio è infinita felicità Dio è sempre festa Dio è sempre gioia cioè la Divina Essenza è una produttrice interrotta perpetua continua cioè anche questo dovremmo pensarci di continue nuove gioie e felicità inesauribili cioè Dio c'è da tutta l'eternità secondo il nostro modo di pensare in questo momento adesso in questo momento Dio si sta inventando dentro di sé mi perdonerà l'altissimo che uso questo linguaggio proprio molto umano per esprimere un concetto che per noi è trascendente in questo momento si sta inventando qualcosa per godere ancora di più dentro la Santissima Trinità e attenzione al tempo stesso si sta inventando qualcosa per far godere di più tutti quanti i santi di cui già è popolato il paradiso senza nessun dubbio per il paradiso la stessa cosa che Dio vive la vivono i santi è la stessa identica per partecipazione certamente non per natura ma questo ci attende allora sappiamo che il regno della divina volontà tra le altre cose porta questa notizia sconvolgente bella cioè che scende il paradiso sulla terra cioè è già sceso il paradiso sulla terra se l'ha portato il nostro Signore venendo a farsi carne no? eh ma si possono dire tante cose belle alcune per esempio dice Gesù è l'ascolto delle nuove verità cioè chi conosce un pochettino il Signore sa quanto è bello eh conoscere qualcosa di nuovo di Lui già quello è un grandissimo piacere è un grandissimo godimento molto superiore a quelle schifezze non so neanche io come qualificarle in maniera dispregiativa senza scadere nella volgarità o le schifezze di quei luridi e bassi e insignificanti piaceri di questo mondo no? che non non sono neanche lontanamente paragonabili a quello che che Dio ci dona ed è bellissimo anche sentire Gesù le feste le gioie vengono formate nelle comunicazioni capiamo allora anche perché quante volte abbiamo meditato quante volte lo dico e lo penso cioè se non si entra in comunicazione con Gesù se non si entra in un rapporto personale profondo intimo con Lui con la Madonna con la Santissima Trinità adesso si capisca il senso che sto dicendo dove il nostro cuore sente una certa inclinazione cioè parlare con Gesù o parlare col Padre o con lo Spirito Santo intendiamoci è la stessa identica cosa non ci sono variazioni sostanziali in un certo senso si capisca bene il senso però in cui lo dico perché non voglio certamente dire le sie anche cioè intrattenerti in un certo senso ben preciso con la Madonna o con Gesù certo Gesù è Dio per carità la Madonna non è una Dea Gesù è la fonte però siccome la Madonna come dire è disponda quindi per grazia ricevuta non perché ce l'ha in se stessa ma tutto quello che per esempio l'umanità di Gesù vive e lo vive l'umanità di Maria per partecipazione quindi se tu trovi l'unione con Maria come diceva bene San Luigi Moffort trovi immediatamente l'unione con Dio certamente lei ha un canale certamente lei non va adorata come una Dea ovviamente questo qui però ecco in ogni caso perché sto facendo questi discorsi perché dice Gesù le gioie vengono formate nelle comunicazioni oggi siamo in un contesto come dire sociale che è iper comunicativo insomma no le gioie si vivono in due ecco le gioie del divin volere insomma quando è che le viveva Luisa adesso vabbè sono cose soprannaturali quindi certamente ma dove le viveva in che contesto le viveva da sola a sola con Gesù nel contesto del suo personale intimo rapporto con lui ma che lui viveva davanti a tutti o sui social network che loro neanche c'erano insomma quindi questa comunicazione e se non ce l'abbiamo chiediamogli preghiera al Signore noi ci possiamo trovare tante volte in condizioni per esempio mio amico Don Pierpaolo sabato scorso ha fatto una bella meditazione alla veglia di preghiera dove parlava dei giri uno dei punti un pochino problematico dice chi ancora non li fa i giri impari a farli è ovvio che è una cosa buona così come gli atti attuali non dobbiamo scoraggiarsi mi sono provato tante volte lo faccio per due giorni e poi mi scordo e poi ripiombo nella inerzia e lo faccio riprova d'accordo non ti preoccupare non ti non ti angosciare riprova riprendi sta tranquillo che il nostro Signore deve riconoscere le tue debolezze le sale le tue miserie lo sa anche che per noi entrare in questo orizzonte a volte è un pochino è un pochino atipico strano complicato però lui dice delle cose molto belle come ti riversi nel mio Fiat divino e formi in esso i tuoi pensieri però le doperano pensiamo agli atti attuali pensiamo agli atti di fusione e fai la chiamata della mia volontà che succede? riflette la sua luce nell'atto tuo con la sua luce tiene virtù di svuotare quell'atto di tutto ciò che ci può essere di umano lo riempie di tutto ciò che è divino ma questa è una cosa grossa questa è una cosa grossa è una cosa bella dice quando il tuo volere divino si sente chiamato dai tuoi pensieri dalle tue parole dalle tue mani dai tuoi piedi dal tuo cuore e va quindi a riflettere la sua luce in ciascuno di essi vi svuota tutto e vi forma la sua vita di fusione quanto sono importanti questi atti? tanto tanto non è solo questo ma sono tanto importanti e quando questo accade ricordiamo noi sperimenteremo sempre nuove gioie e felicità ma in un certo senso noi daremo una felicità una gioia estrinseca ce lo dice Gesù quindi non possiamo non dirlo a lui in persona alla nostra felicità che mai saurisce che ci viene sempre in festa si aggiunge la felicità della creatura quando la vedo sospirare le mie verità per conoscerle allora la meditazione si deve fermare qui perché capiamo no? e capiamo come anche l'ho detto infinite volte però lo rivediamo un'altra volta insomma la vita nella divina volontà a mio avviso è quella che consente alla persona di essere realmente se stessa quindi di far uscire fuori quello che è in quanto tale cioè la sua libertà le sue scelte quello che Dio proprio vuole vedere devono uscire fuori per forza Gesù lo sa se tu sospiri le sue verità se non vedi l'ora di incontrarlo se che ne so vai a messa tutti i giorni e stai già facendo il conto alla rovescia per la prossima comunione queste cose lui le vede ma che non le vede che tipo di rapporto c'hai con lui queste cose lui le vede nel bene e purtroppo quasi sempre nel male è chiaro che se ti vede bene a chi ha sarà dato nel Vangelo a chi invece non entra in questa dimensione rimane sempre un po' alla porta o alla finestra quindi ad avere una vita anche interiore fondamentalmente un po' meccanica un po' soltanto mediata mediata dalle formule dalle preghiere dai sacramenti per carità sono tutte mediazioni fondanti che non devono mai essere né trascurate né abbandonate e nemmeno sottovalutate o minimizzate ecco quindi quella è la piattaforma intoccabile però anche lì come tante volte abbiamo visto ci deve essere una personalizzazione cioè la preghiera vocale va bene ma come la fai come diceva San Benedetto non ci stai con la testa digni e attenti acte vote erano le tre parole d'ordine degnamente attentamente e devotamente sì il sacramento lo ricevi ma ti sei preparato sei preparato la confessione hai fatto un bel atto di contrizione anzitutto tra te e Gesù e poi ti va a confessare con sincero amiltà chiedendo proprio aiuto proprio come un naufrago che va a dire Gesù mio la mia acqua si abbarcava sempre acqua da tutte le parti dammi una mano per favore queste cose Gesù le vede come ti fai la comunione come ti prepari come ti ringrazi queste cose Gesù le vede non è che è sordo cioè se tu ricevi la comunione Gesù sta dentro di te e non sente le tue reazioni non vede come lo tratti certo che lo vede lo vede quindi questa spinta diciamo così anche la presa di coscienza del rapporto personale comunicativo che ci deve essere cioè se non si entra in un rapporto di relazione personale con Gesù non si possono vivere sulla terra a mio modesto avviso può darsi che mi sbaglio se così fosse meglio ma io credo che non si possano vivere le felicità le gioie inebrianti di cui Gesù parla e che promette a chi vive in questo mondo perché si vivranno dentro questo contesto di personale rapporto con lui così come le viveva Luisa così come tra l'altro hanno vissuto tutti i Santi qui c'è un'occasione d'oro ecco per portare al massimo e grado possibile questa necessaria interrelazione tra noi come singoli e lui chiaramente a noi poi aspetta vivere e mettere in pratica queste cose dopo averle fatte nostre e meditate e mettere in pratica bene Santa Vergine tu sei la grande esperta di tutte queste cose noi da te impariamo come a scuola l'arte dello stare con Gesù dell'attendere dopo averle invocate le sue verità, le sue consolazioni ci aiuta e ci fa sempre molta devozione pensare a come pregavi tu prima dell'incarnazione tutto quello che anche negli scritti Luisa ci dice le tue preghiere continue che l'hanno quasi aspirato Gesù se l'emorroissa di cui abbiamo risentito il Vangelo nella messa di ieri ha toccato il mantello di Gesù e per la potenza della sua fede e del suo amore ne ha fatto uscire la forza se l'è quasi andata a prendere quella forza appunto a forza di fede e di amore figuriamoci quello che hai fatto tu in relazione all'incarnazione del Verbo però questo ci faccia pensare a quello che possiamo fare noi perché se Gesù sente un cuore che crede e che ama lui scende non rimane per aria e lo fai anche tu cioè è impossibile perché questo questo linguaggio del rapporto che viene in una relazione personale è il linguaggio di Dio ce l'ha dato lui e Dio non resiste a se stesso quindi no se questo riusciamo a vivere a fare tutte le promesse che Gesù ci ha fatto certamente diventeranno realtà nei modi che lui sa nei tempi che lui sa ma è impossibile che non lo diventi e in questo sempre aiutaci nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ame ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ame fiat ave maria